Musica Ah no, oggi è l'ultimo giorno del mese, che si fa qui a San Francisco, al villaggio? No, non tutti i mesi, questo mese qui i nostri bimbi riceveranno il battesimo e per noi è una grande gioia perché il battesimo Sorat, cosa stai preparando? Il fonte battesimale Grazie a tutti i nostri bimbi riceveranno i nostri bimbi riceveranno il battesimo Grazie a tutti i nostri bimbi riceveranno i nostri bimbi riceveranno i nostri bimbi riceveranno il battesimo Grazie a tutti i nostri bimbi riceveranno i nostri bimbi riceveranno i nostri bimbi riceveranno i nostri bimbi riceveranno il battesimo Grazie a tutti. Grazie a tutti.